sentirsi vivi non è solo fare le cose bene essere efficiente nel lavoro brillante nella società elegante negli eventi sentirsi vivi e rinunciare agli atteggiamenti di facciata e lasciare che chi ci ama conosca di noi la sostanza e questa non è fatta solo di sorriso incondizionato ma anche i momenti di debolezza malinconia paura riflessione le emozioni sono come i colori infinite tonalità tutte essenziali per non sentirsi incompleti allora provaci prova a vivere davvero lasciati conoscere non sei un computer che deve elaborare una manciata di bit per far sì che l'interfaccia sia sempre comprensibile e coerente sei una persona e con tutti i limiti umani che ne derivano comprenderai bene che la parola perfezione non può essere che pura utopia non mirare alla perfezione punta alla serenità anton ballitto mai troppo folle voce mauro mazza a 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